Una turris combattiva è determinata, lotta ma alla fine cede di fronte a un Bari che si è dimostrato squadra superiore, ma la squadra di Caneo, assente per squalifica a San Nicola, in panchina il suo vice Salvatore, non ha sfigurato. I corallini, reduci da una striscia di tre successi consecutivi, partono col piglio giusto e trovano subito il vantaggio all'ottavo minuto, cross basso di Varutti, velo di Leonetti e Giannone di sinistro tra frigge frattali. La reazione dei pugliesi non si fa attendere con Chedira che in aria aggancia un bel pallone e batte Perina per l'1-1. La turris non si scompone e riprende in mano il gioco ancora con Varutti che al 35esimo mette in mezzo per Leonetti, ex di turno, che al volo trova l'angolino basso per il nuovo vantaggio Corallino. Si va a riposo con un sorprendente 1-2. Nella ripresa avvio shock con il Bari che impiega solo 14 secondi a trovare la via del gol con Derrico che raccoglie un perfetto cross di botta e supera per la seconda volta il portiere avversario. Il Bari aumenta la pressione. Al 55esimo Marras scheggia l'incrocio dei pali. Un minuto dopo Botta c'entra in pieno la traversa a colpo sicuro e sul proseguo dell'azione è Scavone a trovare la terza rete con un guizzo da centro area per il vantaggio pugliese. Al 64esimo dinunzio stende Chedira lanciato a rete. Rosso diretto è partita in salita per la turris che però ha una grandissima occasione per il pareggio ma Tascone spreca da pochi passi. A 10 minuti dalla fine i Galletti chiudono il match con un colpo di testa di Terranova su punizione di Botta per il definitivo 4 a 2. I Corallini escono dal diluvio del San Nicola con 0 punti ma con un'altra prestazione assai positiva contro una delle squadre costruite per vincere il campionato. Nel prossimo turno si torna in campo a Liguori contro il Palermo per provare a restare nelle zone nobili della classifica.